Io sono Matteo Leoni e assieme siamo PureTaste. Fermentazione non è una tecnica singola, ma sono diverse tecniche di fermentazione. I nostri prodotti sono speciali perché queste tecniche di fermentazione vengono portate assieme. Il tutto arriva da 10 chilometri da qua in bioqualità. Mischiata con tutti i nostri ingredienti, salata e pressata nei nostri barili. È come il buon vino, la magia avviene nei barili. Bio perché sulle verdure che utilizziamo troviamo uno spettro molto più alto di batteri con i quali possiamo lavorare e a livello qualitativo di gusto sono molto meglio. Abbiamo avuto la possibilità di crescere da una piccola attività a quello che siamo oggi. Grazie. 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 Grazie.